Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Maria D'Abiceglie. Buongiorno. Volevo chiedere al presidente dell'Associazione Penelope, in concreto quali sono i servizi che l'Associazione offre alle famiglie degli scompassi? Sì. Immagino un supporto psicologico innanzitutto, ma poi in che altro Penelope sta vicino a queste famiglie? 080, grazie mille, 080 501 4668 per intervenire ed essere subito collegati con noi. Sono contento che stiamo suscitando curiosità perché è il problema di Penelope che segue le sorti del problema degli scomparsi. È un fenomeno, purtroppo, come dicevo prima, da molto tempo sottovalutato. Quindi non conosciuto il problema degli scomparsi non si è conosciuta Penelope. Speriamo anche, grazie all'aiuto vostro, di potersi farci conoscere anche attraverso fatti. Cosa fa Penelope? Allora, Penelope, qualora dovesse ci sia un caso di scomparsi, come dicevo prima, denuncia immediata le forze dell'ordine che la comunicano senza ritardo alle prefetture. Le prefetture, in base a una legge, adesso fanno, hanno predisposto, quella di Bari è stata una dalle prime a predisporlo, un piano territoriale per la ricerca delle persone scomparse. Quindi decide come coordinare l'attività di ricerca. E in questa attività di ricerca viene avvertita anche Penelope. Tantissime volte quando ci sono scomparsi noi abbiamo un fonogramma da Carabinieri, questura che ci avverterò subito di un caso di scomparsi. Perché sotto il coordinamento del prefetto e chiaramente sotto la direzione delle forze di polizia noi possiamo partecipare anche a un'attività di ricerca anche con altre associazioni con cui siamo, diciamo, gratuitamente convenzionati. Poi forniamo nell'immediatezza un'assistenza legale. Penelope Nazionale ha creato una rete legale che prevede avvocati per ogni regione d'Italia che su base totalmente volontaria assistono sin dall'inizio i familiari in tutta quell'attività che può essere rapportarsi con la prefettura, rapportarsi con le forze dell'ordine, rapportarsi con la procura della Repubblica perché poi ogni fascicolo di scomparsa, almeno subito appena si percepisce che è una scomparsa non volontaria, c'è un fascicolo penale allo stesso tempo che spesso viene archiviato perché non c'è un autore di un reato ma comunque c'è un minimo di attività investigativa. Quindi è fondamentale la figura del legale. Poi abbiamo la responsabile regionale delle psicologi, Rossella Colonna, che è nostra socia di Penelope Puglia, che ovviamente forniscono un'assistenza psicologica perché come dicevo prima non c'è dramma peggiore per un genitore, per un familiare che non avere più notizie di un proprio caro. E quindi un supporto psicologico, ovviamente anche questo gratuito. Ancora l'intervento che Penelope fa verso il commissario straordinario per le persone scomparsi, il prefetto attualmente Vittorio Piscitaglia a Roma. Cioè noi sollecitiamo il prefetto affinché solleciti le autorità alle istituzioni locali a dare un riscontro. Insomma dare una risposta alle famiglie delle persone scomparse. Anche mediaticamente, anche mediaticamente, comunicati stampa. Solleccia proprio parla l'esempio prima, trasmissioni locali abbiamo sempre fatto e anche con chi l'ha visto, mandiamo subito notizie affinché poi in diretta ci aiutino nell'attività di ricerca. Anche perché insomma immaginiamo che sia fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini per rintracciare le persone scomparse. Abbiamo un'altra telefonata, Avvocato, però vorrei ricordare il 329 97 25 717, il numero dell'Associazione Penelope, il pronto Penelope, invece 080 501 4668, il pronto Telebari e Radio Bari per intervenire qui in diretta. Un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere, buongiorno, volevo sapere dal Avvocato La Scala, la funzione di questo prefetto straordinario che è stato più volte citato, che credo che sia una figura di nuova istituzione, con esattamente questa figura, che cosa, che compiti ha, che ruolo ha. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie mille. Allora, sì, è una figura di nuova istituzione, in effetti. È stata istituita qualche anno fa solo e soltanto su solicitazione di Penelope, mi permetto di dirlo, perché è un'altra delle nostre conquiste in questi dieci anni di vita che abbiamo come Penelope, perché fumo ricevuti sia dal Presidente della Repubblica Napolitano, sia dall'allora Ministro dell'Integno, il sottosegretario Mantovani, che è dall'epoca dei fatti. Noi sollecitammo questa figura, cioè ci voleva per noi una figura istituzionale che potesse rapportarsi alla pari con le altre figure istituzionali. Il commissario straordinario per le persone scompasse è un prefetto dello Stato. Attualmente, ripeto, la persona del prefetto Vittorio Piscitelli, che veniva dalla Prefettura, è l'ex prefetto di Reggio Calabria, che dopo l'incarico a Reggio è venuto qui a Roma per fare questo lavoro. Qual è il compito del prefetto? C'è uno staff composto da una quindicina di persone, tra appartenenti a posi di polizia e impiegati civili, che gestiscono tutti questi casi. Cioè, sostanzialmente, la annuncia di scomparsa arriva anche a loro, che di volta in volta sollecitano, si sentono con le prefetture locali, con le forze dell'ordine. Se serve un impulso, come dire, per le ricerche, lo fanno. E rappresenta un po' quello che è l'ufficio di collegamento tra l'associazionismo e i familiari e le istituzioni. Perché, ripeto, parliamo pur sempre di un prefetto. Quindi è un ruolo, secondo noi, fondamentale. Perché è colui che ci consente di relazionarci con le istituzioni ai più alti livelli, dandoci anche credibilità. Perché, come dico sempre, la nostra è un'associazione istituzionalizzata, si potrebbe dire. Un'altra telefonata è in linea 080 501 4668 e sarete subito collegati con noi. Poi le vorrei chiedere quali sono questi misteri di Puglia, perché ci sono dei casi risolti. Questo immagino incuriosisca ai nostri telespettatori. Pronto? Buongiorno, sono Ossalia. Buongiorno. Io spero e mi auguro che tutto il cuore che questa associazione venga assorbita da altre regioni e diventa sempre più larga proprio per dare la possibilità ai parenti di avere anche un supporto che è molto, molto importante. Io adesso riflettevo e dicevo quando una persona, per esempio, ci trova in una situazione che ha paura che un parente oppure un bambino, noi sappiamo che questi ragazzi, questi bambini, sono ribelli, oppure degli anziani che hanno magari l'inizio di una malattia come l'alzheimer o altre malattie. Il parente dove può rivolgersi per evitare una scomparsa? Quindi per evitare un dolore eccessivo domani. Quindi, giustamente, io mi preoccupo del problema di evitare la scomparsa, di aiutare queste persone a non andare oltre i limiti. Grazie, signora. Prego, 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 arrivederci. Grazie, grazie mille, signora, per il suo intervento. Allora, Presidente, è possibile prevenire la scomparsa? E poi un'altra cosa, quando si smette di cercare e se si smette di cercare? Esatto, ha fatto centro. Questo è un altro problema molto delicato e un'altra nostra battaglia. Allora, è possibile prevenire la scomparsa? Prima di tutto, è chiaro che noi, come associazione, dovremmo venire a conoscenza. Quindi l'invito che io faccio a tutte le persone, qualora ritengano che ci sia pure il minimo sospetto da alcuni atteggiamenti che vedono e che nessuno più di una madre, di una moglie, di un marito, di un fratello, una sorella può capire perché conosce da una vita il proprio parente. Segnalazioni di questo tipo, condotte strane, discorsi strani, scritti strani, SMS strani, email strani, che possano in qualche modo rappresentare un indice, seppur astratto, di pericolo, potrebbero benissimo contattarci al numero che abbiamo detto prima, che, ripeto, il 329-9725717. Perché noi a quel punto potremmo anche, se previo il consenso ovviamente dei familiari, tramite il servizio di assistenza psicologica, che in questo caso è più un problema psicologico che legale, aiutare queste famiglie a parlare. Potremmo loro dire a cosa fare più attenzione, quali tipi di condotte devono maggiormente essere sorvegliate, tra virgolette, da parte dei familiari che hanno percepito questa sensazione, e poi soprattutto possiamo, diciamo, ecco, incontrare la persona, cercarla di inserire noi nel sociale, per darle anche una motivazione di vita, perché poi Penelope ovviamente coopera con tante altre associazioni che si dedicano a fenomeni più o meno paralleli, con cui abbiamo convenzioni. Quindi voglio dire, a volersi impegnare nel sociale, perché secondo me, per chi ha un problema di depressione, di sconforto, scoraggiamento, demoralizzazione, non c'è nulla di più bello che poter fare l'attività del sociale. Presidente, si smette di cercare? Allora, sì, purtroppo sì. In che senso? Questa è una cosa forse dove occorrerebbe ancora intervenire. Noi abbiamo a tal proposito preparato, già redatto un'altra proposta di legge, che presenteremo tra settembre e ottobre, perché lì non è più di competenza del Ministero del Lavoro, ma del Ministero della Giustizia. Perché? Noi abbiamo delle problematiche, qui diventa un po' più tecnico l'intervento. Quando una persona scompare, nell'immediatezza di capirne le ragioni e che fine ha fatto questa persona, come dicevo prima, si apre un fascicolo di carattere penale. Però nell'immediatezza non c'è né un reato e né un autore di un reato. E quindi si suole che sostanzialmente aprire questo fascicolo si dice in gergo il modello 45. Il modello 45 è un modello istituito presso tutte le procure d'Italia, proprio quando il fatto di reato non è perfettamente delineato e l'autore non è perfettamente individuato. Che succede? Noi sappiamo anche qui, dal nostro codice di procedura penale, che il termine massimo dell'indagine è di sei mesi, che può subire delle proroghe, fino a un massimo di due anni in casi eccezionali. Qual è il problema che noi ci poniamo? Terminati questi sei mesi o questo anno, eccetera, e non avendo rinvenuto né un'ipotesi di reato, perché la persona ha l'Alzheimer, si è allontanato purtroppo perché è malato, cioè non è successo nessun reato, né un autore del reato, il fascicolo penale viene archiviato. Nel momento in cui viene archiviato il fascicolo penale, questo povero è scomparso, di chi se ne occupa più di lui. Questo è il problema più serio. Sulla carta si dice esiste una norma che è l'articolo 1 del test unico delle leggi di pubblica sicurezza, una norma addirittura di periodo fascista, che prevede che l'autorità di pubblica sicurezza, prefetto e questore debbano sempre tutelare l'incolumità dei cittadini. Quindi in base a questo principio, a questa norma di legge, le istituzioni sono sempre obbligate a ricercare una persona scomparso. Però poi concretamente succede? No, esattamente no, perché diventa difficile dopo i 15 anni, 20 anni, io mi metto nei panni, perché prima di fare l'avvocato ero nelle forze dell'ordine, mi metto nei panni. Cioè io dopo 10 anni, con la persona scossa, 15 anni, decido un giorno che facciamo stamattina, mando due pattuglie in giro a fare che? Se non ho un input, se non ho uno stimolo, se non ho un minimo di attività investigativa, non ho un qualcosa. Quindi ecco, anche in quello il ruolo fondamentale ce l'hanno i mass media. I mass media hanno un ruolo fondamentale perché a furia di parlare, di ricordare queste situazioni, sia quelli locali, sia quelli regionali, sia quelli nazionali, può essere che, può succedere, e c'è successo che gente è stata vista quante volte arriva una segnalazione. Mi è arrivata l'ultima la settimana scorsa quando si parlò a chi l'ha visto di un cittadino tedesco vicino fermo, mi chiamò una signora, poi l'hanno trovato immediatamente, l'ho chiamato i carabinieri, sono andati, non era lui, ma era un'altra persona che stava male. Quindi voglio dire, non abbiamo fatto centro un modo. Insomma è stata comunque utile la segnalazione. Perché altrimenti non si cerca. Presidente, dobbiamo prendere un'ultima telefonata di questo spazio. Pronto? Ci scusiamo per l'attesa col telespettatore. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono un marisciallo dell'arma, mi chiamo Michelangelo Tommasino e ho conosciuto l'avvocato ad alcuni convegni di un'altra associazione sua. Volevo sapere se esiste ancora, se fanno qualcosa, perché l'ho visto spesso con questa nuova associazione Penelope. L'associazione mi sa che è Sana Gens, Nuova Gens, ah, Gens Nova. Gens Nova. Sì. Molto interessante. Io ho visto dei convegni, ho assistito con Maria Falcone, la sorella del giudice. Quindi volevo chiedere all'avvocato se esiste ancora la sua associazione, come si può fare per contattare, per sapere notizie, che sono incontri molto interessanti. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Allora, abbiamo appena il tempo di ricordare questo e siamo in chiusura. Sono due soggetti giudici di vesti. Quella è l'associazione Gens Nova che da dieci anni è presente sul territorio di Bari e come lei giustamente ricorda abbiamo fatto tantissimi convegni in tema di legalità. È un'associazione culturale, non è un'associazione di volontariato, è un'associazione culturale che appunto fa cultura. Ecco, esiste, fa ancora tanti convegni, abbiamo un nostro sito. Come vi possono contattare? Allora, tranquillamente al 338-289-1010. 338-289-1010. E abbiamo anche lì un sito gensenova.com quindi che si può tranquillamente consultare in tempo reale con tutti gli aggiornamenti. Allora, avvocato, purtroppo non abbiamo esaurito diciamo gli argomenti di cui vorremmo parlare ma abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Immagino insomma sia importante dare comunque un segnale. Soltanto veramente 30 secondi. Ci sono dei casi risolti in Puglia che lei preme insomma un po' un pallino che lei ha qualcosa che vorrebbe risolvere. Uno è quello del nostro ex presidente regionale, ex presidente nazionale Annalisa Loconsole, cittadina barese il cui papà dieci anni fa Antonio Loconsole è vige del fuoco in pensione e per psicopatologie si allontanò di casa e da quell'agosto del 2004 ne è più ritronato. Quello è un caso che tra l'altro ha provato molto la nostra ex presidentessa attualmente socia di Penelope Puglia ed è veramente rimasto un mistero non abbiamo più saputo nulla. Un altro caso è quello di Ciavarella a Foggia Monte Sant'Angio un ragazzo di 25 anni scomparso nel nulla a tal proposto noi ricevemmo qualche anno fa io personalmente una lettera anonima che diceva tutta una serie di indicazioni nomi, cognomi e causa che ovviamente consegnai subito alla procura e quindi poi ci sono state delle indagini di cui non conosco l'esito. Poi abbiamo il caso più drammatico fosse nel Salento quel bambino Mauro Romano di cui si occupa spesso anche chi l'ha visto un bambino di 6 anni scomparso nel nulla 31 anni fa e che la madre è distrutta dal dolore quindi ne abbiamo ne abbiamo purtroppo di casi ancora risolti. Allora siamo in chiusura io ricordo il numero dell'associazione Penelope che il 3 2 9 9 7 2 5 7 1 7 esiste anche un sito internet penelope Italia punto org e poi ricordiamo appunto vuole ricordare anche l'indirizzo mail quello mio personale che è presidentenazionale penelope chiocciola gmail punto com presidentenazionale penelope gmail punto com stop siamo in chiusura io saluto e ringrazio l'avvocato Antonio Lascala il presidente nazionale dell'associazione Penelope che torneremo a evitare in questo spazio magari subito dopo le ferie estive grazie mille grazie a voi grazie per avermi dato questa opportunità vi ringrazio invece voi restate con noi perché tra pochissimo parleremo del Bari del calcio con Cristian Siciliani a tra poco Radio Bari